Musica Cari amici di Black & White, benvenuti su Onda Blu In questo programma incontreremo la signora Rosella, con cui parleremo di pesca Impareremo a distinguere le diverse tipologie di imbarcazione Impareremo a fare i nodi più femmini Proveremo l'emozione di una regata Ed infine impareremo a gestire un'emergenza a bordo Nella puntata di oggi ci troviamo a Peschiera Cari amici di Black & White, buongiorno Oggi siamo a Peschiera del Garda, caratteristico paesino del basso lago Come potete vedere, completamente circondato da canali A partire dal 1439, Peschiera entrò a far parte della Serenissima di Venezia E da metà ottocento fu scenario delle tre guerre d'indipendenza Facendo parte del famoso quadrilatero Una forte spinta economica e turistica fu data negli anni 60 Quando alcuni produttori cinematografici, tra cui Bertolazzi e Film Decisero di trasformare Peschiera in una sorta di piccola cinecittà Proprio nel punto in cui ci troviamo adesso, era possibile ammirare enormi vascelli pirateschi La città ospita un gran numero di alberghi e campeggi Che hanno fatto di Peschiera una delle più importanti mete turistiche del lago di Garda Grazie a tutti! Grazie a tutti!